Amici Niter, amiche Niter, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video nuovo video del nuovo format Curiosiamo subito dopo la sigla Valentina che cucerà lana, cucerà lana, cucerà lana quindi, 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 nuovo format Curiosiamo quello che sto facendo adesso che cosa ho finito per i nuovi workshop che si preannunciano tra abbastanza insomma, comunque, vi faccio vedere un pochettino visto che ho terminato un sacco di cose ho pensato di dividere questo video in due perché, se no, verrebbe troppo lungo andiamo immediatamente ad incominciare Prima cosa che ho terminato, terminato per il workshop di Vienna A settembre sarò di nuovo a Vienna e quindi, attenzione, attenzione ho terminato questo Che cos'è? Che cos'è? Tutto intero, devo dire, non ce la faccio a farvelo vedere siamo troppo vicine è un cardigan, comunque già su Facebook è uscita la foto quindi, magari, ve lo potete vedere lì è un cardigan top down mi è piaciuto lavorarlo in maniera immensa proprio, mi piace tantissimo è uno dei miei capi preferiti per la nuova stagione innanzitutto per lavorarlo ho usato una lana di Dancomontread fantastica, meravigliosa il colore è bellissimo si intona anche al mio rossetto quindi, cosa vogliamo di più? e ci sono, naturalmente, le coste ritorte che sono oramai il mio marchio di fabbrica il collo sciallato ha questo motivo ve lo faccio vedere da vicino meraviglioso i raglan decorativi hanno quest'altro motivo non so se lo vedete è stupendo sotto l'ascella si congiungono e formano un ulteriore motivo insomma, cosa dire questo cardigan mi fa impazzire ha le maniche molto lunghe la linea è abbondante bella, avvolgente i due davanti possono essere leggermente sovrapposti fermati con una spilla è il tipo di cardigan che a me piace mi piace moltissimo spero che le ragazze lo apprezzino altrettanto le ragazze di Vienna, ovviamente passiamo al secondo capo e da ora in poi ci saranno degli sneak peek velocissimi perché è tutto ancora molto segreto ecco qui quello che vi posso far vedere intanto vedrete vedete vedete che è incelofanato incelofanato perché tutti quelli che vi faccio vedere ora sono incelofanati al sicuro da tarme assassine visto che ultimamente ho visto qualche tarmetta che giravi in casa ho subito incelofanato tutto e messo gli antitarme dentro e quindi non tiro fuori ma non li tiro fuori anche per la ragione che vi avevo detto prima cioè per non svelare troppo questo capo che è segreto lo faremo a karate brianza cosa vi posso dire di questo capo? è un capo che è rosa rosa cipria un colore bellissimo è lavorato con dei ferri molto più grossi di quelli a cui io sono abituata è lavorato con un filato che non ho mai usato prima molto interessante molto bello e anche se è grosso è un filato molto leggero e aereo e non è un accessorio e c'ha le coste ritorte e in realtà in realtà anche se diciamo a karate sono abituata a proporre delle cose di un livello un pochettino più alto come difficoltà perché in realtà lì vengono veramente persone molto 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 brave preparate per cui vorrei che avessero soddisfazione credo che questo sia un capo dalla realizzazione estremamente estremamente semplice è proprio semplicissimo però ha un taglio che è fantastico è favoloso e mi piace tantissimo e come anche l'altro nonostante questo sia veramente molto semplice devo dire che è uno dei miei capi preferiti tanto che penso lo terrò da parte per un progetto futuro e sono veramente convinta che questo piacerà tanto perché o almeno lo spero perché a me fa impazzire è veramente bellissimo io non vedo l'ora di presentarlo per poi indossarlo perché lo metterò sempre terzo progetto non più rosa non più rosa ma un meraviglioso color verde acqua ma neanche verde acqua un sì acqua un verde acqua chiamiamolo così perché non c'è un altro modo e lavorato zon zon con un con un con una marca di filati che è tra le mie preferite al mondo ed è l'Aito e ho lavorato con il racuda che è un filato di cammello bellissimo e il mio amato sensai che è il mohair più bello del mondo ok perché non pizzica è sottilissimo ma non pizzica che cos'è? è uno scialle dove lo lavoreremo? novità novità lo lavoreremo a Lugano quindi esco per la seconda volta dall'Italia e sono contentissima contentissima la prima volta a Lugano credo che questo piacerà molto non è per niente difficile ed è un accessorio possiamo dirlo è uno scialle ma uno scialle veramente bellissimo mi piace un sacco ho fatto pochi scialli questa stagione ma quelli che ho fatto sono vababuma secondo me proprio spaccano e mi piacciono tantissimo questo qua io credo che sia veramente uno dei pezzi più carini più belli come a livello di scialli che io abbia mai disegnato mi piace moltissimo quarto sneak peek velocissimo e vietato fare un fermo immagine basta non posso farvi vedere di più sono cattivissima allora che cos'è? non è un accessorio dove lo faremo? a Bologna cosa avete visto? tre colori tre colori e cosa c'è da dirvi? avrete visto le righe insomma ragazzi veramente si pronuncia un bellissimo workshop è un capo veramente semplice da realizzare non ha difficoltà particolari non ha ferri accorciati non ha pizzo ma secondo me dà una grande soddisfazione a tutti anche perché è il secondo capo invernale con il quale io userò dei ferri non con il quale per il quale io userò dei ferri più grossi di quelli a cui siamo abituati di solito e quindi va su velocissimo è lavorato con un filato molto molto leggero della Drops che devo dire non mi è per niente dispiaciuto il tempo il tempo dirà com'è la resa di questo filato però per adesso devo dire sono molto soddisfatta e anche le tester erano molto contente e per il primo video abbiamo finito aspettiamo il secondo per vedere come si conclude il nostro sneak peek il nostro curiosare fino diciamo fino ad un certo punto fino a dove ho finito i lavori se vi è piaciuto questo video e io spero di sì perché questo è un format che mi piacerebbe molto continuare a fare mettete un bel pollicione condividetelo con tutti i vostri amici e lasciatemi un commento anche su dei consigli se ne volete io vi aspetto al prossimo video e naturalmente a presto se non l'ho già fatto consultate anche la pagina del mio blog sul quale avrò scritto tutti gli appuntamenti futuri dico non so se l'avrò ancora fatto perché non so quando uscirà questo video e anche il prossimo per cui state allerta e se vi piace qualcosa che avete visto correte ad iscrivervi subito per i miei nuovi workshop e noi ci vediamo alla prossima